Chiara Moretti, l'attrice che si era fatta notare come giovane interprete in alcuni film durante i primi anni della carriera di Roberto Benigni, è scomparsa all'età di 67 anni a Firenze. La notizia del suo decesso è stata annunciata dalla sezione fiorentina di Fratelli d'Italia che ha ricordato che Maria Moretti aveva ricoperto il ruolo di consigliera per alleanza nazionale PDL dal 2004 al 2014, successivamente aveva aderito a Fratelli d'Italia. Nata all'8 agosto 1955, poco più che ventenne, Chiara Moretti esordì in Berlinguer Ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci, accanto a Roberto Benigni, tornando a recitare con Benigni nella miniserie tv Vita da Cioni nel 1978, sempre con Benigni e apparsa in Chiedo Asilo 1979 di Marco Ferreri.